Risorse più consistenti per una maggiore capacità di risposta alle esigenze delle famiglie. Quelle con figli in età d'asilo nido, scuola dell'infanzia e che lo scorso anno hanno faticato terribilmente a trovare un servizio estivo adeguato alla loro conciliazione famiglia-lavoro. Quest'anno aumentano invece nidi e asili per il periodo estivo dopo le maggiori risorse di bilancio riversate su questa esigenza. Un grande sforzo da parte dell'amministrazione per quest'estate 2023 che risponde, speriamo, alle richieste pervenute durante la scorsa estate per il servizio estivo a Pesaro. Quest'anno la grande novità è uno sforzo su quella fascia di età particolarmente sensibile che è lo 0-3 anni, una promessa che avevamo preso con i genitori lo scorso anno, appunto è che quest'anno prevede l'apertura di sette nidi, ovvero due strutture in più per questa estate che consentiranno la frequenza a circa 100 bambini in più che erano quelli rimasti in lista d'attesa nello scorso anno e una scuola dell'infanzia in più rispetto a quello che era l'offerta dello scorso anno. Quindi sei scuole dell'infanzia, sette nidi più 25 posti della sezione primavera riservati a quei bambini che già frequentano quelle sezioni ma che si aggiungono un'offerta molto ampia dei servizi educativi quest'anno. In più un contributo che viene confermato per la frequenza dei centri estivi privati per i 3-6 anni che prevede appunto la possibilità di richiedere il contributo a stagione terminata per quelle famiglie più fragili che invece intendono per comodità logistica o per far provare un'esperienza diversa ai propri figli di frequentare un centro estivo privato e la città fortunatamente ne ha tantissimi. Stiamo parlando di più di 200 posti riservati alla fascia 3-6 anni delle strutture private e ancora di più le scuole paritarie che partecipano a questa offerta molto variegata che quest'estate 2023 prevede e che consente. Una risposta di una città che si prende cura dei propri bambini, una città che cura e che educa le nuove generazioni. Una risposta alle famiglie pesaresi che soddisfa anche l'opposizione in Consiglio Comunale che più volte aveva sollecitato questo tipo di intervento. Meglio tardi che mai, finalmente dopo un anno, con un anno di ritardo, la giunta pesarese riesce a dare risposte in maniera concreta a quello che era stata la nostra sollecitazione, mia e del consigliere Andreoli in particolare lo scorso anno. Purtroppo ci eravamo trovati nella condizione di vedere escluse 100 famiglie dai nidi estivi e all'incirca altrettante nelle materne. Avevamo chiesto un intervento preciso e puntuale della giunta, soprattutto sulla fascia 03, in cui manca un'offerta integrativa privata alternativa. Quest'anno arriva grazie a quelle che sono le risorse che riusciremo a recuperare dalle bollette che hanno visto abbattere il loro costo e siamo molto contenti che l'amministrazione comunale intenda investirle in questo modo. Le scuole dell'infanzia aperte per il servizio estivo saranno la Grande Quercia, i Tre Giardini, il Grillo Parlante, il Poi Poi, il Peter Pan e il Mary Poppins. Per quel che riguarda i nidi, aperture estive per Albero Azzurro, Aquilone, Girotondo, Macondo, Mondogaio, Mille Storie e Nuvole di Cotone. Si amplia l'offerta delle scuole disponibili, si ampliano anche i criteri d'accesso. Si sono modificati anche quelli che sono i criteri delle graduatorie per accedere ai servizi estivi con un'ultima delibera di giunta di alcune settimane fa che prevedono dei punteggi anche per quelle persone che si trovano in mancanza di lavoro da meno di sei mesi e che potranno avere un punteggio riconosciuto anche per questa situazione di precarietà e ancora di più per la pendolarità dei punteggi più puntuali che si basano non tanto su dei calcoli approssimativi di Google Map come era negli anni precedenti ma un calcolo puntuale dal punto di partenza al punto di arrivo e anche questa è meritocrazia e giustizia verso chi fa domanda.